Un attacco a Ir su un affollato mercato ortofrutticolo nel nord-ovest della Siria ha ucciso almeno 9 persone e ne ha ferite altre 30. Gli attivisti sostengono che la Russia, uno dei principali alleati del presidente siriano Bashar al-Assad, abbia lanciato l'attacco sulla città strategica di Gisrael Shugur nei pressi di Idlib, controllata dall'opposizione. Secondo un giornale filogovernativo siriano l'obiettivo erano militanti e un deposito di armi.